Signore e signori, andiamo stasera dal colpo della voce di Donnas. Il colpo stasera si presenta poi con un preparatorio che passa da compositrici a compositori. Apriremo con una prova della nostra presidente Claudia Favaro, anche nell'ambito della polifonina, si tratta di un paternose. A seguire sconteremo di Bollachiello, Ubi Capitas. Qui il compositore norvegese riuscirà ad affrontare il tema della calità e dell'amore tra i domini attraverso uno spunto del canto gregoriano che crea tensioni particolarmente toccanti e profonde. A seguire della compositrice americana Michelle Roche, Luxe Eterna, dove attraverso fraseggi delicati e quasi sospesi, le voci si fanno sciantino e diventeranno interpreti della metafora della lotta tra le tenebre e la luce eterna. In chiusura, Laudate d'Ondo, di Roberto Cammini, dove le sonorità più robuste, più marcate e più coinvolgenti inviteranno il popolo a lodare il signore. Buonasera a tutti. Grazie. 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 Grazie.